Sul mancato passaggio a Chieti del Giro d'Italia edizione 2022, nei giorni scorsi è arrivata la reazione del coordinamento di Fratelli d'Italia. Un'occasione sfumata, dicono, come lo è anche la perdita di un'altra manifestazione sportiva che è emigrata a Pescara a causa di costi degli impianti sportivi teatini. Ma da parte sua l'amministrazione comunale chiarisce. Il Giro d'Italia nella nostra città è passato l'anno scorso, tornerà a passare nel prossimo anno. Ecco, è una scelta di RCS, ma noi stiamo lavorando su tanti eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale. Tanti ne abbiamo già concretizzati nella nostra città, che da un anno e mezzo è stata dal punto di vista sportivo viva come non mai in passato. Stiamo praticamente definendo quello che sarà un appuntamento importantissimo che si terrà tra qualche giorno, l'11 di marzo, cioè i quarti di finale di Coppa Italia di basket maschile di A2, presso il nostro Palatricalle. Abbiamo ospitato importanti manifestazioni nazionali per quello che riguarda l'Ippica. Stiamo lavorando veramente sui grandi eventi, sui grandi appuntamenti e devo dire che francamente nulla di veritiero quelle che sono state le critiche che ci sono pervenute da Fratelli d'Italia. Ma comunque li ringraziamo, anzi, li consigliamo anche magari di contattarci, perché così possiamo spiegare loro tali aspetti per evitare che magari in futuro possano dire cose inesatte. Quanto invece ai costi degli impianti sportivi, lei cosa risponde? Per quello che riguarda il costo ordinario dell'impiantistica sportiva cittadina, ricordo che questa è in linea con quello che accade nelle altre realtà e soprattutto l'abbiamo rivista un anno fa, circa un anno fa, poco meno, per un semplice motivo. Perché prima non rispondeva ai parametri di legge. Tutto ciò che veniva fatto in passato, ossia una copertura inferiore a quel 26%, evidentemente non rispondeva ai principi di legge. Quindi francamente, senza nessun tipo di polemica, anzi, ma volendo dare una risposta tecnica e di contenuto, dico che in futuro siamo a disposizione anche di coloro i quali vogliano avere informazioni in merito, ma più che altro per evitare esternazioni che sono destituite di fondamento che fanno fare brutta figura a chi le fa.